Musica Hello my fellow hikers facciamo il sentore delle creste del Resegone compagnia di brother e ho anche un po' il tempo contato perchè devo suonare stasera però su carta, 13 km rotti, 8-900 metri di dislivello mi hanno preso la funivia se no sarebbe stato troppo lungo sono 25 euro, andare e tornare dai in bella, follow me! La miachia La miachia La miachia La miachia A mechia Dei Sucre Grazie a tutti Nebbia La roccia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Siamo ripartiti Ci mancano 8 km Circa 200 metri di slivello positivo Si è alzata un po' la nebbia adesso qua Proprio in questa parte Vabbè, rende un po' più selvaggio Ragazzi in teoria dovremmo ancora andare a sud La traccia che ho trovato mi fa scendere qua Per l'alpinista i punzesi Che poi è quello che avevo già fatto Quindi siccome non abbiamo tempo Sto giro devo fare di nuovo Sto a parte qua La traccia che ho trovato mi fa scendere qua Pianidernia Eh sì, manca ancora un pochettino Bisogna ricordarsi che in tutto il percorso per ora non c'è un rivolo d'acqua Ci compattiamo e non ci facciamo male Bella, siamo arrivati al parcheggio Già fatto pausina veloce, gelatino e bibita Beh sicuramente è un EEE Anche l'ultimo pezzo ci sono un paio di catenelle Un paio di punti esposti Bello sì, mi è piaciuto Ciao Ciao